Durante il periodo della pandemia, tra le persone che dal punto di vista assistenziale hanno subito un doppio contraccolpo negativo dalla condizione di isolamento, facendosi carico di un ulteriore peso, ci sono tutte quelle persone, i loro familiari, che usufruivano di servizi di assistenza in centri o a domicilio. Persone con disabilità fisica e mentale, anziani, minori, clochard, si sono visti venir meno quei servizi che garantivano loro un percorso socioassistenziale e riabilitativo. Oggi è stato siglato in regione, a Palazzo Raffaello, tra Regione Marche, Alleanza delle Cooperative e parti sindacali, presente anche l'Anci, un protocollo importantissimo che dà risposte e certezze a 30.000 utenti e 12.000 operatori sanitari per la ripresa dei servizi educativi sociali e sociosanitari che sono rimasti congelati per l'emergenza coronavirus. Il protocollo mira, ha detto il governatore Ceriscioli, a rimodulare un servizio, garanzia anche della sicurezza, sia degli utenti ma anche degli operatori sanitari, per favorire la ripresa dei percorsi importantissimi riabilitativi. L'Anci, per voce poi di Maurizio Mangialardi, ha sottolineato l'importanza degli enti locali in questo protocollo, i quali svolgono un ruolo da protagonisti nell'erogare i servizi. L'Anci, inoltre, ha portato questo tema anche sui tavoli nazionali per poter iniziare un percorso come le Marche, ma il presidente Antonio De Caro ha dovuto lasciare il tavolo per assenza di coperture da parte del governo. Ora, gli ambiti territoriali per i servizi sociali e le ASUR per quelli sanitari devono mettere in campo tre modalità di attuazione del protocollo. Prestazioni individuali domiciliari, prestazioni a distanza e prestazioni che tengono conto dei protocolli di sicurezza, però negli stessi luoghi dove si svolgevano normalmente, prima dello stop da Covid. Tutte le prestazioni avverranno assicurando i percorsi riabilitativi ed educativi individuali e garantendo la sicurezza e l'integrità salariale anche dei lavoratori, secondo i contratti sottoscritti, garantendo però la salute di famiglie e operatori.